Prove in camerino da H&M Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovissimo video, buon sabato! Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, vi lascio tutto qui sopra e anche sotto in infobox. Detto questo, nel video di oggi vi mostro le prove in camerino fatte da H&M qualche giorno fa. Era da un po' di tempo che non andavo a fare un giretto da H&M e così ho pensato di filmare le prove in camerino delle varie cose che ho, non che ho preso ma che ho provato. Poi il video ve lo faccio la settimana prossima. Vi mostro appunto tutte le cosine che ho trovato da H&M che mi piacevano, vi dico già non ho trovato chissà quali cose, c'era qualcosina sì anche di carino però nulla di così sconquifferante. Mi dispiace tanto perché anche a livello di colori non hanno colori super accesi ma ci sono colori abbastanza tranquilli e sebbene quest'anno sapete ci sia un'esplosione di colori in giro quindi mi aspettavo qualcosina di più sotto quel punto di vista delle palette di colori. Ma non fa niente perché delle cose carine ci sono anche lì come sempre, anche cose super semplici, basic, sapete che io di H&M mi trovo bene proprio per questo. E niente, adesso dovete perdonarmi, ho il cellulare sotto mano perché devo guardare insomma quello che ho filmato altrimenti non riesco a raccontarvelo e mi sposto un pochino come al solito, io vi lascio questo spazio vuoto e da questa parte vi metterò appunto i filmati in cui vi mostro le cose che ho preso. In contemporanea io guarderò perché devo spiegarvi insomma un attimo le varie cose, perché non mi piaceva, perché mi piaceva e così via. Quindi mi sposto e andiamo. Allora il primo capo che ho provato sono questo paio di wide leg jeans che hanno un colore abbastanza chiaro, un colore primaverile che devo dire a me piace molto. E mi piacciono, mi piacciono perché fasciano bene la figura, sono un po' il modello come quelli scuri che ho sempre di H&M. Ho preso una taglia 36 perché vestono molto ampi, sia in vita che di gamba, quindi la 36 a me va bene, mi sta comoda di vita, quindi è perfetta. E devo dire che mi piacciono molto ad osso anche se, non lo so perché, ma in camerino non rendono come a casa, sono molto più belli visti a casa. Mi piacciono anche indossati con gli stivaletti bianchi, devo dire, e questi non erano male come jeans, quindi sono un bel paio di jeans wide leg che non va giù troppo ampio e mi sono piaciuti molto. Ho poi provato questa t-shirt a manica lunga, bianca ed azzurra a righe, ed è un po' un classico questa t-shirt per la primavera, a me piacciono molto le maglie a righe. Questa qui era in taglia S, però vi dico poi alla fine ho provato la L perché volevo che stesse un po' più larghina, un po' più comoda. Questa mi andava diciamo bene per quanto riguarda la parte della vita, era un po' stretta di maniche, infatti non riesco a capire perché personalmente fosse stretta di maniche, ma così era. Vi lascio anche il codice sia dei jeans che poi della maglia che è super basic e super semplice. L'altro capo che ho provato, il terzo capo, è questa camicia di questo tessuto, è un tessuto saten, è molto bella, è la camicia troppo lunga decisamente. Infatti per quel che mi riguarda, per la mia altezza, è da indossare assolutamente all'interno dei pantaloni. Però devo dire che indossata all'interno dei pantaloni mi piace molto perché è di questo color panna e ha tutti questi fiori bellissimi che tra l'altro io amo disegnare. Sono dei fiori che mi piace tantissimo disegnare anche nella mia agenda, quindi quando li ho visti mi sono innamorata. La trovo un capo molto elegante, è fatta bene, mi piace tantissimo e l'ho abbinata poi a questo paio di jeans. Questi sono dei jeans che scendono un po' a campana e niente, allora i jeans hanno una vita regolare, sono di un color panna, il problema qui è che di vita vanno bene ma di coscia mi erano stretti. Infatti se vedete fanno le pieghe e non riuscivo a tirare su bene il cavallo. Peccato perché stanno veramente bene, quindi se non avete il problema delle cosce, come nel mio caso, ma avete le cosce più magre, vi staranno sicuramente bene. Quindi sono molto belli e mi è dispiaciuto personalmente un sacco perché ho provato anche la taglia più grande ma purtroppo non andava bene. Ho poi provato questo paio di mom jeans e non mi piacciono, no non mi piace il jeans, su di me non sta bene, io non me lo vedo bene. Il jeans così che scende un po' a carota su di me non ha un bel effetto. Qui li ho provati anche con gli stivaletti, un po' meglio, ma ripeto, quel genere di jeans su di me non sta bene perché mi va ad allargare ancora di più la coscia e io non ho bisogno di questo. Perché poi non mi sento a mio agio, non me li vedo proprio bene addosso, mi fanno un effetto che non mi piace. Però sono belli, se vi piacciono i mom jeans, questi sono davvero belli, sono fatti bene e quindi insomma ve li consiglio. Ho poi provato un'altra t-shirt sempre uguale a quella di prima, solo questa in taglia M e la preferisco in taglia M perché è un po' più larghina, un po' più comoda. Una classica t-shirt in cotone, semplicissima, bella fresca per la primavera, sono quelle t-shirt insomma che in primavera da tutti i giorni sono perfette e anche questa mi è piaciuta tanto perché questa è in bianco e nero, due colori insomma classici che stanno un po' bene con tutto, quindi devo dire che anche questa mi è piaciuta molto. Sono andata poi a provare un altro paio di jeans, i jeans in questione sono questi e sono dei jeans regolari, quindi la gamba va giù dritta, a parte il fatto che sono lunghissimi per quel che mi riguarda. Però vi devo dire che stavano veramente bene nella parte della vita, vedete sono molto belli, fasciano bene, il problema anche qui è che nella parte delle cosce sono troppo stretti e quindi non me li sento comodi, il cavallo non mi saliva bene, mi stava troppo basso, infatti credo anche un po' si noti. E anche questi li ho provati in taglia più grande, però niente, cioè perché poi la vita mi era enorme, provati in taglia 40 la vita a me diventava veramente enorme, una cosa esagerata e quindi facevano tipo tutto effetto rimborsato, un po' effetto slouchy nella parte della pancia, non mi piacevano. Sono andata a provare questo top che visto lì appeso era davvero carino, ho preso una taglia M, mi piace, mi piacciono tantissimo i colori, però ho provato una taglia M ed era enorme, cioè troppo grande, non mi stava bene, avevo veramente un avanzo di spalline dietro che non vi dico, era troppo grande, dovevo prenderlo. Ho provato una taglia in meno e sicuramente l'effetto sarebbe stato diverso. Ho voluto provare poi anche questo top davvero molto carino, delicato, questo è un color panna giallino, super delicato, con dei fiorellini lilla e blu. E questo qui l'ho voluto provare per indossarlo con il completo, quello blu, sempre di H&M. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, è particolare, ha questa fascia elastica nella parte del seno, chiaramente è un crop top, però mi è piaciuto anche dietro perché dietro ha praticamente un nastrino, uno spaghetto che va a chiudere ma poi lascia scoperta la parte proprio dove io ho il tatuaggio e quindi mi è piaciuto molto, insomma, mi ha fatto piacere così provarlo. Ho provato poi un'ultima cosa e sono andata a provare questo top bianco con queste maxi spalline, però vi devo dire, ho preso una taglia M, forse dovevo prendere una taglia S perché mi era veramente grande anche di spalle. È carino, però anche qui le spalle veramente un po' troppo too much, troppo esagerate, quindi non lo so, non è che mi abbia fatto impazzire, non ha propriamente catturato la mia attenzione, diciamo. Comunque anche questo è carino, c'è se non erro anche in nero e in beige, credo, non ricordo, in nero sono sicura, comunque forse lo trovate anche nel sito. Come avete visto vi lascio sempre il codice e il prezzo perché ho filmato anche quelli, insomma, in modo che possiate vedere sia il codice QR, basta semplicemente bloccare il video con il telefono, scansionare il codice QR anche direttamente dal sito H&M e vi viene fuori l'articolo, così io evito di scrivere e di riempire l'info box con tutti gli articoli, dato che, insomma, avete sia il numero dell'articolo, insomma, si vede sia il numero dell'articolo che il QR code, quindi potete tranquillamente scansionarlo da un computer, da un tablet, attraverso il vostro telefono o inserire il numero, il codice, insomma, identificativo dell'articolo. Questo è tutto quello che ho trovato di un po' carino da H&M, come avete visto non ho provato chissà quali cose e pensate che per provare solo queste cose e per filmare mi ci è venuto da quasi, non quasi, di più di un'ora e mezza, quindi tenete conto voi e spero il video vi sia piaciuto. Mi dispiace non aver inserito anche qualche gonna e qualche vestito, ma purtroppo, vi giuro, non ho trovato nulla, nulla che mi piacesse e che facesse al caso mio, quindi ho, insomma, evitato. Lasciate un like se questo genere di video vi piace, io spero di riuscire ad andare a fare un giro anche da Zara, prima o poi, ma sicuramente questo dopo Pasqua, perché, insomma, adesso ci sono le vacanze di Pasqua, i bambini sono a casa, è un po' tutta una confusione, è tutto un casino organizzarmi, anche perché Zara ce l'ho a mezz'ora di strada, quindi è più complessa la cosa, cioè perdo un'ora solo di viaggio, praticamente. E niente, detto questo, io spero tantissimo il video vi sia piaciuto, vi ringrazio tanto e aspettate che c'è qualcuno che vi vuole salutare. Vieni Cristi, belli! Allora, aspettate, aspettate, aspettate che vi faccio vedere Cric che ha una vita, che non lo vedete. Il mio cappellone, è vero? Ok, allora, Cristian, vuoi far vedere il bigliettino che hai realizzato per la tua amica Asia di oggi? Eh, che bravo, hai scritto anche Asia. Allora, Cristian, oggi ha fatto questo bigliettino per la sua amichetta, è vero? Sì. E che cosa hai fatto? Dai, racconta un po'. Ho fatto il coniglietto di Pasqua con la carota in mano, il cioccolatino e l'uovo di Pasqua. Che bello! E poi ci scriviamo dentro, cosa ci scriviamo? Tanti auguri Asia. Tanti auguri Asia. Sei felice oggi di andare? Sì. Sì, sì. Va bene. Salutiamo, allora? Sì. Cosa si dice alla fine del video? Cosa devono fare? Devono lasciare? Un like! Eh, guarda lì, guarda lì e digli cosa devono fare. Guarda, guarda lì. Che cosa? Eh, cosa devono fare? Devono lasciare? Un like! Un like e iscrivetevi al canale! Dillo bene, che se no non capiscono! Ed iscrivetevi al canale! Ciao a tutti e buon week-end! Grande! Bacioni! Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Grazie.